Ovunque tu possa vivere c'è sempre un posto che prima chiamavi casa. Per me questo è Padova. Padova, parte del patrimonio UNESCO, conosciuta anche come la città dei tre senza. Per il suo prato, senza erba, per il suo caffè, senza porte, e per il suo santo, senza nome. Viaggiare in un posto ti fa riscoprire diversi lati, prima nascosti. Ti impegni per scoprire tutti gli angoli che ha da offrire. Padova ha anche numerosi annettoti. Qui si è laureata la prima donna. Tra le tante colonne, una ci è stata rubata, e poi più conosciuto, probabilmente l'aperitivo più buono al mondo. Qui costudiamo tradizioni che durano generazioni, e per un valido motivo. Sebbene sia stata cittadina, e ora turista, sono sicura ci sia molto di più da scoprire, fuori e nei dintorni di Padova. Tutto questo accompagnati dalla nostra bicicletta. Grazie 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 Grazie